ci sono delle Harley di vari anni vari modelli e questi hanno dei cerchi che per la gran parte vengono prodotti in questa azienda di Ceriano Laghetto ce lo mostra anche Daniele che ha lavorato e lavora da diversi anni al reparto cerchi moto spiegaci Daniele quel quel cerchio allora questo è un cerchio Harley da 40 fori oddio 40 raggi per una misura di 19 pollici per 2,50 la larghezza questi sono cerchi che noi attualmente produciamo per il mercato americano per questo tipo di Harley che montano ancora i cerchi i raggi quindi anche Harley prodotti in questi anni quindi sicuramente sì e questo è uno dei modelli che escono da questo stabilimento questo modello quasi grazie 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 grazie